presentare le posizioni di più radicale contestazione di vera e propria disuguaglianze, ingiustizie, impoverimenti e arretramenti nella condizione di vasti ceti comprendenti famiglie del popolo e della classe media e in modo particolare appesato il senso di un cronico intollerabile le posizioni medionali, così come si è espresso nel voto. Sono stati condannati in blocco, anche per i troppi esempi da essi dati di clientelismo e corruzione, i circoli dirigenti e i gruppi in sicurezza e di allarme. Tutto ciò va messo in relazione con il tempo che stiamo vivendo, è il tempo della globalizzazione, dell'instabilità e della crisi generale della politica.